Il maltempo estivo, soprattutto ad agosto, ormai ce lo aspettiamo tutti, decisamente meno però le conseguenze che questi due giorni di pioggia hanno comportato per la città di Pesaro. Tante infatti le segnalazioni che continuano ad arrivare sullo stato delle strade ricoperte dagli aghi di pino o dal foiame, che allo stesso tempo ha anche ostruito vari tombini della città, impedendo così il loro corretto funzionamento con conseguente allagamento di strade e abitazioni al piano terra. Da via Canale a via Romagnosi sono varie le zone interessate da questa problematica. A testimonianza di ciò la presenza di alcuni cittadini che accogliendo l'appello del sindaco Biancani stanno dando una mano a spazzare i viali e a pulire i tombini, dimostrando così un grande senso civico. Allo stesso tempo però c'è chi si chiede come bisogna comportarsi per quei tombini che non è possibile aprire e anche chi vuole sapere a chi rivolgersi nel caso si facesse male. Il latemporale è cessato quindi, così come il maltempo. Lo stesso però non si può dire per i disagi provocati da quest'ultimo.